È stato un match di sofferenza. È normale che all'inizio della sezione non erano l'occhio usciti, se non facciamo mai bene. È normale che non fosse un match così forte e riuscito, ma era in prima ripresa. Abbiamo terminato l'equipo che mi ha perso in difficoltà, ma la prima ripresa abbiamo giocato molto bene. È importante ora che castigiamo queste tre punti per credere, per tutto ciò che è necessario per la campionata. È normale che non abbiamo giocato così forte come è probabilmente in parte della sezione. Ma abbiamo bisogno di lavorare e con i bambini siamo sicuri che ci saranno bene. Ha contato l'evoluzione della vostra e la temperatura di fuori di oggi? Beh, è sicuro che noi non abbiamo giocato. Abbiamo giocato proprio delocco per la chasse. Era forte, forte caldo. È sicuro. Sporremmo che ci sono anche dei giocatori della sezione. Abbiamo giocato aggressivi. È normale che noi non abbiamo ridicato il livello per i bambini. Adesso, ripeto, abbiamo iniziato la sezione e abbiamo usciuto. Abbiamo detto che potessi farci bene. È importante che Elvira dare il gol per loro per credere. Abbiamo usciuto queste tre punte. Seppsi è un'equipa buona. Altra cosa è un'equipa che è lupata, non rinuncia a nessuna data. Abbiamo giocato bene. Non si può dire. Non è nulla. Non si può dire. Non si può dire, ma è l'unico. Da noi è importante. Quando abbiamo pensato, abbiamo creduto che si poteva castigare. Al due ripresi ho detto che abbiamo giocato più bene. Ci siamo passati. Come apprecia l'evoluzione ai giocatori che hanno evoluato per prima volta? La Università di Careva mi refero a Marius Constantin. Da l'inizio della partita. 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 Dio ha cresciuto fin. Ho giocato bene. Ma non ho mai a Marius. Ci sono altri giocatori. Ci sono 4 fondazioni, per cui abbiamo fatto una cosa buona. È normale. Per prima ora. Per Marius, non conosceva i giocatori. C'era bene. Da l'inizio della partita. che si può fare qualcosa di ozibito, ripeto, stai io, è normale che è il primo match, non è stato un match così pre-è riuscito, ma abbiamo tempo per rega alcune cose, e dovremmo imparare immediatamente per vedere questa equipa di Tbilisi, perché ora giociamo in Europa League e vedremo il gioco che facciamo. E' un'ultima domanda, quanto è importante questa vittoria in perspectiva match-ului in Europa League? E' importante, perché è importante, è importante, è importante per la vittoria, per la credere, un cestico, un occhio, un zambetto, ma è normale che stiamo, stiamo dove dovremmo, siamo lavorati, e in continuare, siamo fosti per il ruolo, in afara, in cantonamento, non è stato facile, ma in questo momento, ripeto, la vittoria fosse forte e frumosa, perché giocavamo in questi match, ci ne dà incredere, speriamo si attrecciano in questa equipa, con modestia a fare una presunzione, e speriamo che dopo, poi, aggiungiamo il match a questa cuvastra, perché sono tre match, dopo nella pausa, dove dopo si può regla, si può dire fisiche, perché non si internava a livello massimo, non si internava a livello massimo in questa perioda del campionato, dopo un singolo match. Grazie.